Ai diretti interessati c'è da scommetterci, forse non sarà troppo dispiaciuto, ma ironia a parte i genitori insorgono oggi dopo che i figli, in viaggio in treno dalla Val Chiavenna, stamattina non sono entrati a scuola, a Morbegno e Sondrio perché vittime dell'ennesimo ritardo dei treni. Non saremmo arrivati in tempo per entrare in classe, hanno spiegato ai genitori, e così anziché recarsi agli istituti superiori dei due centri, da Colico, dove hanno perso la coincidenza, hanno fatto ritorno a casa. Allo snodo Lariano, il convoglio atteso da Chiavenna alle 6.56 è arrivato molto dopo, a causa del guasto di un passaggio a livello sulla tratta. E come se non bastasse, anche il successivo diretto Milano-Tirano, atteso a Colico alle 7.48, si è fatto aspettare circa mezz'ora, dicono dal settore trasporti della CISL, così le famiglie hanno risollevato la questione. Ancora una volta, questa la loro dichiarazione al segretario trasporti della CISL di Sondrio Michele Fedele, i nostri ragazzi non hanno potuto raggiungere le scuole in tempo utile per partecipare, seppure in ritardo alle lezioni odierne. L'iniziativa porta la firma, in particolare di un gruppo di mamme, che hanno espresso forte preoccupazione per il disagio di oggi, proprio all'esordio del nuovo anno scolastico. Questo problema, dicono, si ripercuota inevitabilmente anche sul rendimento dei ragazzi. L'argomento non è nuovo, tanto per i ritardi, ormai all'ordine dell'ora più che del giorno, quanto per le necessità specifiche dei pendolari. Più volte, anche in passato, il tema del trasporto pubblico degli studenti è stato al centro dell'attenzione e della discussione, che in qualche fase ha coinvolto anche i presidi. I problemi strutturali della circolazione, vale per le rotaie, ma i pullman non fanno eccezione e non possono ripercuotersi. Questo è il principio, più volte unanimemente condiviso, sulla formazione dei molti giovani che quotidianamente viaggiano per andare a scuola. Concetto oggi ribadito dalla CISL, che chiede a questo punto un piano specifico in grado di fronteggiare l'emergenza. Grazie a tutti.